Con la Premier Meloni ci siamo ovviamente tenuti sempre in contatto, l'ho mandata a dormire presto dicendo quello che ho detto ieri sera, tranquilla, stai tranquilla, naturalmente aveva quel momento di ansia che tutti abbiamo quando aspettiamo l'exit poll, però è andata a letto molto soddisfatta, molto contenta e anche molto fiera del lavoro che abbiamo fatto e continuerà ad esserci vicino come lo è sempre stata e la ringrazio per l'attenzione e per la dedizione con cui si sta dedicando al Paese e all'Abruzzo. Adesso e parafrasando il mio slogan elettorale, il governo che fa bene all'Abruzzo, c'è anche un Abruzzo che ha fatto bene al governo.